Allora io diciamo che siamo andati un po' a braccio, giustamente perché non volevamo che questo momento fosse triste, volevamo che fosse nello spirito di Sveva e quindi una dimostrazione di forza, di coraggio. Sveva e ha come obiettivo il regalare un sorriso ai bambini che sono fortunati come voi che state qua, ma che magari stanno in ospedale, allora gli diamo dei desideri, delle cose che a voi piacerebbe un sacco, per esempio youtuber preferiti, non so se vi dice qualcosa a me contro te, per esempio. Grazie per la vostra presenza. Grazie per la vostra presenza. Grazie. Grazie. Grazie.